Ok ragazzi bentornati su Quei Due Sul Server 2, siamo su Mortal Kombat ma stavolta in versione competitiva Competitiva, facciamoci una Versus, visto che lui vuole provare nuovi personaggi, lui li provo anch'io e uso Jade Che forse ho usato mezza volta, però che non mi dispiace, no no il fisichetto lo c'è Allora io userò Scorpion, che come tutti sanno in spagnolo significa seppia Ah sto liscio Mi piace Scorpion, fa le masse come piacciono a me Hai finito a rompere i coglioni? No no così è, perché volendo puoi continuare Cioè per l'amor di Dio nessuno ti dice, nessuno ti dice ma le mannaggia Ho capito dai, il mio nuovo preferito è Scorpion Vieni qua, non una settimana Ti meno No ma è lisciato È bellissimo Scorpion È finito? Hai finito? È veramente, è veramente Scorpion Io sto provando le cazzo di mosse, tu invece Bella, mi sono prima ricordato che mi avevi menato Scorpion c'è tipo una mazza in culo, non muove il busto Vabbè però che non ti cazzo pure queste mosse Ma io sto provando, te lo, oh figa questa È un po' difficile da fare ma Aspetta, che porca puttana Non mi ricordo come si fanno Ah però hai rotto i baloni È finito, vieni qua Ma questa non, guarda ma piatto, ma piatto Cioè non sa manco lui come ha fatto, come ha piatto Cioè io non lo so, guarda Davvero Ho un po' di fortuna effettivamente È finito? Ha provato le mosse di merda Che cazzo è figa? Allora, c'è questa che non è male Ah Dio è finita C'è un sacco di mosse figa Tipo, tipo quelle lì Ma non c'è la muttana Eh dai, non è possibile Nel culo, va No, nel culo Eh, prendilo Dai, l'ultima, l'ultima Affanculo, va Ma comunque mi piace molto Scorpion Ma questa è difficile da usare, Jade Pare fa un bel culo, devo dire Il culo, il culo nessuno dice niente Com'è l'hai fatta a fare bene? Si fa così La sforbiciata No No Muah, muah Muah Ok Ma che palle? Si ma non toglie niente quella mossa Non so se ci hai fatto caso So 30 Che palle, va So 30 colpi che ti do Tu mi hai preso mezza volta So sto a metà, va Ah, no, perché quella mossa è l'amma Se togliesse anche tanto, scusa Dai, torna a casa, Bobbit Donna Accaput... No Guarda che culo di... No Bam Oh Sì Sì Adesso ragazzi vi faccio vedere come si fanno le fatality Ok Non vi preoccupate che arriva la fa... Sopra, sopra, sotto, sinistra X Sopra, sopra, sotto... È difficile Aspetta Sopra, sopra, sotto... Sopra, sopra, sotto, sinistra X Sopra, sopra, sotto, sinistra X Bella, bella... Oh, hai visto? Ho fatto un po' di lap dance Beh, vabbè, vabbè, molto, molto eccitante Per gli amici Molto eccitante con tutto quel sangue C'è anche un po' di... Credo un moccolo Che facciamo? Selezioniamo un altro fight e lo remacciamo? Vuoi riman... No, selezioniamo un altro, dai Io sono alla ricerca del mio personaggio preferito Che ho già trovato Lo so benissimo Chi è? Io userò tutte donne Io userò smoke A sto giro No, smoke a te no No, perché è troppo simile a... A chi? A quello, lo scemo, là No, guarda che gesto fa con la mano Oddio, oddio Ho paura No, non la fa Eh, meno male Voglio, lo voglio anche dietro Ecco Madonna, che bene Eh, come si fanno le mosse con questa? Questa pia scurcioni, no? Ecco Che capolavoro per la mossa Io ti pia scurcioni, no? Io non scherzavo niente con me Beh, ciccio Aia Dai Dai, ciò Guarda Guarda, guarda che culo che tiene È finito? Guarda che bellissima sta mossa Ho fatto la briga Mi hai fatto s... Ma no Mi hai fatto utilizzare due... Due... Porca puttana Io con questa non sto a fare ancora mezza mossa Perché non ho capito come Mi scurcioni Così Finito? Che cazzo è quella mossa? Gli scurcioni E dai Ma muori Oh, parca miseria però Non so far manco mezza mossa con questa Ma manco io Però mi si è staccato il tanga, guarda Figo Io so fare questa Eh Che però non ti toglie niente No, però rompe i coglioni se permetti, eh Ti aspetta Qualcosa toglie Poco poco, vedi? Qualcosa toglie È finito? Però ti... Questo toglie di più Madonna Che cazzo Come l'ho fatta Ah, ecco come l'ho fatta Io faccio quella mossa per mostrare le chiappe al pubblico Signori, questo è tutto per voi Questa è... Oppa Donna Questa è difficilissimo da utilizzare Non riesco a capire manco mezza mossa Porca puttana Oh, ok Proverò la mossa del cazzo di cane Ma io devo provare questa Ecco Posso Finito Che ovviamente ha funzionato Culo Ma che dici se diamo un'occhiata alla movlist? Allora, facciamo una Voglio vedere Che stai a fa? Che stai a fa? Che stai a fa? Che stai a movisci il tempo? Una fatta di che fa? Questo ragazzi Lo... 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 Lo intoliamo il gameplay Più brutto del mondo Perché Perché di questo Si tratta Fa cagare Lo cazzo E su queste parole di saggezza Vi lasciamo